Mai vinto a Potenza, un tabù che il Pescara proverà a sfatare. Sulla scia dei tre successi, in altrettante trasferte con sette golfatti e soltanto uno subito. Colombo perde Giabuà a causa squalifica, ma recupera Bergani. Tante le indicazioni positive scaturite dalla goleada rifilata in Coppa Italia al Vis Pesaro. Purtuttavia il tecnico Lombardo sembra intenzionato a conservare almeno per il momento le girarchie di inizio stagione. Le novità si fa per dire, il rilancio di Luca Palmiero anche in campionato e il ritorno di Cuppone che a Potenza ha lasciato un ottimo recentissimo ricordo storia dello scorso campionato. Otto reti in 14 gare da gennaio-giugno e un contributo fondamentale in chiave salvezza. Ecco dunque il probabile 11. Plizzari tre pali in difesa Cancianotti, Brosco, Bobben e Milani. In cabina di regia Palmiero, Craia e Mora interni di centrocampo. Davanti conferma per De Sogus nel tridente, completato dagli ex Cuppone e Lescano. Per contropotenza ancora digiuno di successi. Cinque pareggi e un K.O. Maguai sottovalutare l'undici di Sebastiano Siviglia. 49 anni ex difensore centrale in terzino. 269 presenze in A, di cui 183 nella Lazio. Trascorsi importanti anche nell'Atalanta. Prima esperienza da allenatore dei grandi. La sua è una squadra che prova sempre a giocare veloce come il sintetico del Viviani e imprevedibile in attacco. Il punto critico non equilibrata, a volte disordinata in fase difensiva, nelle cosiddette transizioni negative. In questo caso perde spesso i riferimenti. Il Pescara dovrà approfittarne. Al partenio Lombardi sotto di due gol. I Lucani si sono svegliati tardi, creando però nel finale ben quattro limpide opportunità. Morale tuttavia risollevato dalla vittoria ai rigori nel match di Coppa sul campo della Virtus Francavilla, dove il Potenza avrebbe meritato di chiudere la pratica molto prima. Siviglia deve fare i conti con qualche giocatore non al meglio. Il probabile undici. Gasparini tre pali, in difesa Vincenzo Polito, figlio di Ciro, DS del Bari ed ex portiere Biancazzurro. Centrali Girasole, l'esperto legittimo a sinistra Rillo. A centrocampo del Pinto Steffè e Talia, in attacco del Sole di Grazia a supporto di Caturano. Ben sette gli ex del Potenza. A lastra, indisponibile, del Pinto, del Sole, di Grazia, Belloni, Masella e Logoluso. Così il tecnico Sebastiano Siviglia. Sappiamo di giocare contro una squadra che è in fiducia, una squadra che sta dimostrando il suo valore, soprattutto fuori dalle mura amiche. Non dimentichiamoci che arriva da tre successi consecutivi esterni. Una squadra dinamica, una squadra che è a palleggio. Un avversario che comunque ha i suoi valori importanti, ma ha le sue fragilità. Non c'è niente di impossibile. Faremo la nostra partita portando in campo le nostre convinzioni. Si diceva, stadio Viviani Tabù. Otto Capò, appena tre pareggi, due dei quali conquistati nelle stagioni 2008, 2009 e 2009-2010. Entrambe le sfide terminate 0-0. L'ultima volta, nelle immagini, 6 dicembre 2009. Da una parte il Potenza di Ezio Capuano, dall'altra il Pescara di Antonello Cucuredu. Protagonisti due portieri Pinna e il giovane Tesoniero. Tutt'altro che irreprensibile, la terna arbitrale, un autentico abbaglio. Il fuorigioco sbaglierato da Costanzo Di Orvieto, primo assistente di Viti di Campobasso, un attimo prima dell'acrobazia da Cineteca di Mario Artistico. Sempre in C, due anni prima, 26 agosto 2007. Momento complicatissimo dal punto di vista societario. Pescara, Zeppo di Giovani in versione sperimentale. Ancora in attesa del nuovo tecnico Franco Lerda. In panchina Antonio Di Battista. Questo l'undici di partenza. Bartoletti, Mottola e Fruci. Vitale, Pomante, Capitan Luca Leone. Axel, Vicentini, Felci, Marco Di Matteo. In attacco Daniel Ciofani e Luca Di Matteo. I ragazzini bianchezzurri lottano, ma alla lunga il Potenza avrà vita facile. Finisce 4-0. Marcatori Galantucci, Dettori, Berretti e Delgado.